prenderà sicuramente almeno un piazzamento fra gli altri credo che si possano piazzare Boreas Amnis e forse anche Brandi o Blis del Cerceo Sesta corsa premio Westgate Crown la prova del pomeriggio riservata ai gentlemen è un miglio per i 4 anni sono in 12 al via la prima fila per Boreas Amnis Badoglio Luis Bellium Debuti Bomberman Batman Blis del Cerceo Brook US seconda fila per Belen Leone Brandi Brigitte Klemmer Borgogale Boato Klemmer Brigitte Klemmer Boato Klemmer il rapporto scuderia rinuncia al lancio con il 7 Brook US Badoglio Luis all'interno in lotta con Bellium Debuti quindi Boreas Amnis ancora Bomberman la seconda fila la seconda fila molto veloce Borgo Gall che però ha all'interno Brandi Badoglio Luis che difende la posizione con il lancio in 13 e 4 l'errore in curva per Brandi seconda posizione per Boreas Amnis davanti a Bomberman ripiega invece in quarta posizione Bellium Debuti a precedere Borgo Gall poi all'esterno c'è Batman con all'interno Belen Leone con Badoglio Luis che dopo aver conquistato il comando delle operazioni guida a ritmo più che discreto tanto da completare i 600 iniziali in 43 e 6 nonostante questo Borgo Gall muove dalla quinta posizione e va a gravitare a mezza strada tra Boreas Amnis e Bomberman che seguono il leader lungo la corda nel frattempo mezzo miglio in poco più di un minuto per Badoglio Luis si mantiene in vantaggio nei confronti di Boreas Amnis Borgo Gall all'esterno Bomberman poi ha trovato posto in corda Batman superando Bellium Debuti Badoglio Luis che non si lascia avvicinare Borgo Gall che rimane a mezza via tra Boreas Amnis e Bomberman ma il ritmo del leader li impedisce di migliorare ulteriormente siamo ai 1.2 raggiunti in 1.29 secco da Badoglio Luis che si mantiene in vantaggio ma Boreas Amnis ora accenna a spostare della sua scia seguita da Bomberman Borgo Gall deve ripiegare in quarta posizione Badoglio Luis è leader nei confronti di Boreas Amnis e Bomberman che sposta più in fuori più indietro gli altri sono in tre con Badoglio Luis all'interno Bomberman a largo che stenta a impegnarsi linearmente ma supera Boreas Amnis Badoglio Luis però sembra in grado di controllare e di regalare la quinta vittoria del pomeriggio come allenatore ad Alessandro Vociadoro vince Badoglio Luis da un capo all'altro con il proprietario Onofrio Tortorici in salchi 1'59'2 sul mio cronometro media di 1'14'5'2 per Badoglio Luis che vince davanti a Bomberman e Boreas Amnis per i numeri 2'4'1 questo l'arrivo ufficioso in attesa del replay con Badoglio Luis che è andato a condurre ed è sfuggito chiaramente a Bomberman che ha battuto Boreas Amnis ha provato a movimentare la corsa a largo Borgogal ma si è arreso ai 300 finali e quindi 2'4'1 l'arrivo ufficioso della sesta di Capanella linea allo studio a l'arrivo ufficioso che ha battuto l'arrivo ufficioso ma o all'arrivo ufficioso che ha avvisato